Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori tra Montelupo, Fiorentino ed Empoli Est sono possibili disagi in entrambe le direzioni. Per questi lavori l'entrata di Empoli Est è chiusa in direzione Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio collaboriante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 325 tra Incisa Reggello e Valdarno. Sul raccordo Siena-Bettolle, rallentamenti per lavori tra Casetta-Monte Aperti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano-Terme e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!